Guido Guidesi, l'Ocse premia la riforma del federalismo approvata nel 2009 dalla Lega Nord, che cosa ha detto? Diciamo che l'Ocse ne fa un'interpretazione, è bene specificare un po' di cose meglio. Ciò non toglie che per la prima volta un organismo internazionale riconosce una riforma fatta da questo stranissimo paese ed è proprio la riforma che avevamo fatto e proposto noi. Poi oggi ci diciamo che quella riforma è stata messa in un cassetto dal governo Monti e purtroppo ancora dal governo Letta per cui noi ci aspettiamo come ci invita l'Ocse a fare che venga applicata il prima possibile. Proprio per questo abbiamo presentato una mozione, abbiamo trovato anche la condivisione degli altri gruppi ed ora pensiamo che il lavoro della bicamerale sul federalismo potrà finalmente portare all'attuazione di quella riforma. L'unica vera riforma che avevamo fatto noi è che l'Ocse invita anche tutti gli altri paesi a fare. La Lega Nord quindi vigilerà sul governo e sulla bicamerale perché questi decreti attuativi finalmente trovino la luce? La Lega Nord vigilerà sul governo proprio perché il governo si è speso in questo e perché noi pensiamo che questa possa essere l'unica riforma che farà veramente risparmiare e creerà quel taglio della spesa pubblica che è necessario per fare in modo che il bilancio di questo Stato risponda ai coefficienti dell'Unione Europea. Grazie. 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 Grazie.